Sono stati mesi molto difficili innanzitutto per la liquidità, noi imprese abbiamo dei costi fissi che non siamo riusciti ovviamente nemmeno minimamente ad alleggerire, tra l'altro anche la formula del sostegno è stata una formula molto molto imprecisa ed era tra l'altro dovuta a delle differenze medie di fatturato anno sull'anno quando in realtà la perdita grossa, le aziende come la mia, la ristorazione, hanno perso la maggior parte dei soldi. Nei mesi di gennaio e febbraio 2021 che andavano riferiti probabilmente al 2020 invece che fare quel meccanismo che ha ingabbiato un sacco di persone in più ma ha ridotto drasticamente i ristori dando un lieve sostegno proprio ma neanche minimo. Di conseguenza è stata molto difficile, dopodiché io personalmente ho cercato di usare il tempo per risistemare alcune cose all'esterno, sai la nostra attività tra l'altro non ha una grande affinità con l'asporto in quanto è data dal convivio delle persone, dalla presenza di amici che bevono davanti a una birra, mangiano qualcosa insieme. Venendo a mancare questo meccanismo viene a mancare proprio l'ossatura del nostro tipo di attività. Un coprifuoco alle 22 con una somministrazione che finisce alla medesima ora mi dà l'impressione di trovare del grandissimo traffico veloce per raggiungere i domicili nella maniera più breve possibile perché poi se ti ferma una pattuglia alle 22.15 e ti eleva un verbale da 400 euro anche l'uscita diventa un attimino da pensare. Non credo che siano sempre delle questioni inerenti proprio al contagio, al contenimento del medesimo in quanto abbiamo visto che quando i bar sono stati chiusi, i ristoranti sono stati chiusi nessuna flessione si è palesata immediatamente, anzi i contagi sono continuati a crescere. Si è fatto poco secondo me sul controllo, non dico domiciliare, ma quelle riunioni un pochino azzardate come sono successe nei paesi vicini dove per feste di lauree si sono ammalate 70 persone in un solo occasione. Quelle sono sfuggite, molte cose di quelle, capisco la difficoltà di controllare una persona dentro la sua casa. Un'ultimissima cosa, cosa pensi del fatto delle riaperture nel frattempo solamente all'aperto? Tu sei fortunato se ti metti anche nei panni di un altro ristoratore, cosa diresti? Sarei molto frustrato come tutte le volte che non sono ricaduto in qualsiasi forma di possibilità di ristoro o di possibilità di aprire in quanto ristorante non puoi aprire ma se hai dei contratti con le aziende puoi fare da mensa aziendale quindi apri. Non siamo rientrati anche noi in un sacco di cose e questa cosa è frustrante per tutti. A volte quando sento i colleghi che parlano in televisione della propria realtà mi viene quasi male perché nessuno di noi soffre più degli altri. Siamo tutti in estrema difficoltà e dovremmo essere più che una categoria ma un gruppo di persone che fa sentire la propria voce in maniera corretta e legale ovviamente. Il deficit è molto grosso, in più noi come posti non li abbiamo, sicuramente dovremmo stare chiusi. Abbiamo un gazebo all'esterno che si apre tutto intorno ma avendo una copertura sul tetto non sappiamo come viene valutata. In più non è questo che ci fa risolvere il problema anche perché la stagione comunque sia non è ancora iniziata perciò le serate ancora sono fredde e penso che non ci sia tanta gente che abbia voglia di venire a mangiare all'aperto. Il mangiare deve essere un piacere, se uno deve soffrire di freddo per mangiare penso che non ci siano tante adesioni. Io non vedo questo il modo per risolvere il problema. Come fai a gestire una cosa del genere? Dovresti lavorare con l'orologio, mangiare con l'orologio e sinceramente se dovessi essere io non mi piace. Il mangiare, io dico sempre, deve rimanere un piacere, gustarsi il mangiare con i suoi tempi e questo secondo me non è il modo di risolvere il problema. Noi continueremo con l'asporto e le consiglie a domicilio sperando che la situazione si risolvi il prima possibile e che queste stupidaggini di far mangiare all'aperto finiscano perché per me sono solo stupidaggini create dal governo che non risolvono sicuramente il nostro problema.